A mezzogiorno, come da tradizione, la carrozza del Senato e la Berlinetta hanno lasciato il municipio di Catania per raggiungere la chiesa di San Biagio. Sono iniziati così, con l'omaggio delle autorità cittadine e degli antichi ordini militari e cavalereschi, i festeggiamenti in onore di Sant'Agata. Sulla carrozza settecentesca hanno preso posto il sindaco Enzo Bianco, il commendatore Luigi Maina, presidente onorario delle celebrazioni a Gatine, il direttore generale del comune Antonella Liotta, l'assessore Valentina Scalfa e la piccola Sabrina Di Matteo, di otto anni, una luna dell'istituto comprensivo Fontana Rossa che aveva scritto una lettera al primo cittadino esprimendo il desiderio di partecipare alle celebrazioni. A bordo della Berlinetta invece il vice sindaco Marco Consoli e altri componenti della giunta, gli assessori Giuseppe Girlando, Rosario D'Agata, Angelo Villari e il presidente del comitato Fessa di Sant'Agata, Francesco Marano. Il corteo barocco, detto anticamente Processione della Luminaria, preceduto dalle dodici candelore, ha raggiunto l'antica chiesa di Sant'Agata alla Fornace, per poi rientrare in cattedrale per l'offerta della cera, con la suggestiva esecuzione del solenne inno di ringraziamento Te Deum. Stasera i festeggiamenti proseguiranno in Piazza Duomo con i tradizionali fuochi della Sera del Tre, con i celebri spettacoli piromusicali e l'inno trionfale alla Santuzza.